Buon pomeriggio Sindaco, grazie come sempre della sua disponibilità. Partiamo subito dalla manovra finanziaria e la norma per i comuni in predissesto. Noi attendiamo con fiducia e trepidazione i testi usciti dal Consiglio dei Ministri di ieri. Non sappiamo ancora il governo che ha varato, se ci sono novità positive per gli enti locali del nostro paese, in particolare noi nella nostra città, ci auguriamo che il governo alle parole faccia conseguire i fatti, altrimenti dovremmo ritenere che i sindaci d'Italia sono stati presi in giro. È un motivo di ritenere che questo governo non voglia fare questa pessima figura. Quindi c'è fiducia, se non dovesse essere così si aprirà una stagione completamente diversa nel nostro paese, probabilmente inedita, perché vi posso dire che dopo sei anni di governo di una città con gabbie normative, senza soldi e soffocamenti finanziari, non ci si può chiedere poi di fare i miracoli e trasformare le carcasse in autobus o le strade dissestate in autodromi di Formula 1. Per alcune cose ci vogliono le risorse economiche, le possibilità di assumere personale, di fare investimenti, cosa che il governo sinora ci ha sempre impedito. Quindi stiamo a una svolta, per Napoli come per le altre città. Non c'è più tempo da perdere. Intanto con la Corte dei Conti c'è interlocuzione sul piano di riequilibrio. Sì, la Corte dei Conti fa il suo dovere, fa il suo mestiere, perché la legge del 2013 ha dato molti poteri di controllo alla Corte dei Conti. Da un lato sono doverosi, dall'altro chiaramente, ovviamente appesantiscono anche la fluidità del lavoro del Comune, però devo dire che con la Corte dei Conti c'è un rapporto di estrema collettezza, leale collaborazione, come sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Qualcuno già dava per scontato che la Corte dei Conti decidesse per il dissesso del Comune di Napoli, invece così non è stato. Ha dato delle prescrizioni, prescrizioni anche dure, che noi conosciamo, e che da soli non riusciamo però a realizzare fino in fondo. Ci vuole quel contesto di normativa nazionale di cui vi ho detto poc'anzi. Ma noi comunque andremo avanti, il Comune rispetterà i suoi impegni di rafforzare incisivamente la capacità di riscossione per quanto riguarda i tributi e quindi lotta all'evasione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Per il resto noi tutti ci danno atto che la città che maggiormente è andata forte in questi anni era quella che peggio era partita rispetto a tutte le altre. e assicuro a chi ci ascolta che anche in città molto pesantemente finanziate, come Roma, l'azienda dei trasporti non è in crisi come a Napoli ma è già fallita, a Milano tagliano linee del trasporto pubblico, Torino sta per andare in dissesto e a proposito della legge di bilancio la sinde di Torino ha avuto pur un avviso di garanzia. Quindi questo è il quadro nazionale nel quale ci muoviamo, quindi questo lo dico perché la capacità di lotta, di sofferenze e di risultati raggiunti la città di Napoli è prima. Noi ovviamente non ci accontentiamo, vogliamo portare a casa i risultati. Io ho messo in campo in queste settimane un'attività istituzionale, diplomatica e politica senza lasciare nulla di intentato. Quindi stiamo facendo tutto quello che si può fare per rafforzare e migliorare la nostra città. Interlocuzioni anche con la regione di Campania sul fronte dei trasporti pubblici? Sì, c'è stato venerdì un incontro profiguo col presidente della regione, il quale ha preso degli impegni che sono doverosi tra l'altro perché rientrano nelle competenze della regione. Io quando c'è qualcuno che si impegna a fare cose buone e giuste, a differenza di altri, sono intellettualmente onesto che lo riconoscono, non ho problemi di questo tipo. Quindi adesso ci aspetta un'altra maratona domani con i sindacati, ci auguriamo che si possa chiudere perché non vedo l'ora di poter dare la notizia che finalmente l'azienda non solo si salva ma si rilancia, i lavoratori possono lavorare più tranquillamente, i cittadini finalmente possono non più solo sperare ma essere certi che anche se costantemente e lentamente ci sarà un miglioramento dei servizi del trasporto della nostra città. A Napoli fa tappa Genesi. Sì, devo dire siamo davvero contenti di questa bellissima mostra fotografica di Sebastaro Salgado, Alpanna, il nostro museo d'arte contemporanea a Via dei Mille, invito tutti ad andare a vedere questa mostra inaugurata oggi che resterà fino al 28 gennaio, 2245 fotografie bellissime scattate nei posti più incontaminati e più nascosti del mondo, un tripudio alla natura, un monito agli esseri umani a ripartire dalla genesi della vita umana che è la natura che va difesa e non violentata. Torniamo su Piazza Principe Umberto, ci scrive un nostro telespettatore Sergio, precisamente da Vico Milano, Sergio che ci ha inviato tra l'altro anche delle fotografie. Siringhe, urina, spazzatura e prostitute, siamo stanchi di questo degrado. La situazione è insostenibile, noi qui lavoriamo, parcheggiamo e rischiamo di prendere lights. Nelle scorse ore tra l'altro è stato appiccato anche un incendio. Sindaco, le chiediamo un aiuto concreto, per favore non ci lasci da soli. Ma io non solo non li voglio lasciare soli, mi sto impegnando a squarciagola e come amministrazione comunale mi fa un po' rabbia ricevere queste giuste grida di dolore di cittadini perché noi abbiamo fatto un investimento importantissimo su Piazza Principe Umberto. Abbiamo fatto dei lavori di riqualificazione, così come a Piazza Mancini, così come a Piazza Garibaldi. Adesso stanno iniziando i lavori, sono iniziati anzi, i lavori a Porta Capoana, a San Giovanni a Carbonare. Ma adesso io mi auguro che tutti gli altri che hanno preso una serie di impegni che sono soprattutto quelli con riferimento alla sicurezza di quelle aree, onorino questi impegni perché poi il Sindaco in questo caso farà d'alto parlante rispetto al grido di dolore del nostro amico e metterò in campo tutto ciò che nelle mie possibilità per rendere in quella zona come in tutte le altre la vita più sicura e decorosa ai nostri concittadini. E chiudiamo con il calcio, un suo agurio sindaco per il Napoli che tra poche ore scenderà in campo. Il Napoli sta vincendo e convincendo. Penso stasera che ci sono tutte le condizioni perché sia una bellissima partita, due grandi allenatori, due grandi squadre, uno stadio così blasonato. Io sono convinto che il Napoli farà la sua parte, c'è una bella atmosfera. Insomma, siamo veramente orgogliosi di questa squadra. Grazie a tutti.